Allora, diciamo che adesso giocheremo una partita a settimana appunto per un mesetto circa e un po' cambia perché dal punto di vista mentale comunque bisogna dire in palestra, lavorare e poi ci si approccia alla partita, quello non cambia. Cambierà sicuramente le tipologie di allenamenti che faremo perché comunque giocando due volte a settimana magari non dico che ci andiamo piano perché mai, però magari quando prima si poteva magari un po' tirare il freno diciamo tra virgolette, passiamo il termine, adesso che c'è molto più tempo per lavorare su determinate cose magari si avranno delle settimane un pochino più toste, però comunque è l'unica cosa diciamo che cambia e insomma è giusto anche così. La partita con Bologna sarà sicuramente una partita molto difficile, lo si sa, tirata, all'andata hanno vinto loro di un punto proprio sulla sirena, è una partita strana perché nessuno dei due aveva un roster veramente completo a noi mancavano un po' più giocatrici, diciamo comunque Giulia sotto canestro fa la differenza eccetera e adesso andremo a Bologna, squadre complete, spero sarà una bella battaglia. Sì, sono sicura che sarà una partita di altissimo livello, comunque due squadre che hanno fatto anche il campionato europeo quindi tra l'altro al completo, quindi secondo me sarà proprio una bella partita, speriamo. Vi aspettiamo, se riuscite, a Bologna lunedì alle 8 e altrimenti seguiteci su LBF TV.